e comincio io e chiedo cosa c'entra la bibbia con la traduzione automatica è il libro più tradotto del mondo esatto quindi possiamo non era preparata questa cosa possiamo confrontare le varie traduzioni per imparare a tradurre esatto qual è la cosa bellissima è che ce la cei e quindi c'è una supervisione maniacale su cosa su come sono fatte le traduzioni quindi hai lo stesso libro con le stesse frasi nello stesso ordine con una supervisione veramente pesante di un organismo che si preoccupa perché che il contenuto sia esatto perché quella è la parola di dio quindi non la puoi tradurre male e quindi hai una risorsa bellissima per insegnare a una macchina che due frasi vogliono dire la stessa cosa dopo la bibbia questa cosa si può fare con altre con altre con altri tipi di dati alcuni sono leggi di stati multilingui tipo il belgio il canada la svizzera in cui di nuovo la stessa frase deve essere tradotta non so in belgio in francese e in olandese in svizzera francese in tedesco in italiano in canada in francese in inglese e di nuovo devi essere molto attento che la legge in tedesco e la legge in francese siano interpretate nello stesso modo a zurigo e a ginevra oggi si fanno anche con le ted queste cose perché appunto i sottotitoli dei film o delle ted dove c'è una gente che si preoccupa di tradurre le cose a mano e poi hai questa questa varietà di frasi che vogliono dire tutta la stessa cosa e tutti gli algoritmi di traduzione automatica partono da qui quindi abbiamo abbiamo tirato dentro la bibbia in un podcast di di ai ti faccio notare due cose al volo uno per quanto riguarda i sottotitoli dei video attenzione può essere pericoloso utilizzarli come source per imparare perché quello che la maggior parte della gente fa è tradurre direttamente dal dall'inglese quando la lingua originale può non essere l'inglese quindi ma infatti di solito si usano dati con un minimo di supervisione quindi appunto i film o le ted dove di nuovo c'è una qualche forma di controllo però il fatto dell'inglese è una cosa interessante di nuovo prima di arrivare nell'ai come si traduce un libro dal coreano all'ungherese si passa prima per l'inglese ma anche le persone fanno così perché il traduttore che sa il coreano e l'ungherese a livello madrelingua non c'è o costa troppo il traduttore coreano inglese c'è e costa poco il traduttore inglese ungherese c'è e costa poco e quindi si passa per le lingue ponte e questa cosa si fa io ho due domande subito in realtà sono due osservazioni la prima è che il linguaggio giuridico non è il linguaggio quotidiano a volte hanno un linguaggio differente significati anche differenti e sono costretti da un framework di leggi a essere applicati in un determinato modo pensiamo al concetto di persona no in inglese lo può tradurre mille modi ma non ha lo stesso valore legale e l'altra altra questione che mi è venuta in mente pensiamo quando tipo marco paolo è andato in cina che doveva tradurre e poi ci erano dati missionari tutta quella strada doveva tradurre il termine dio ma il dio ebraico giudaico cristiano come hanno scelto di tradurlo con che parola hanno scelto quindi in realtà quando te hai detto vogliono dire tutte la stessa cosa di questi corpi di documenti lingue differenti non lo so non so se due lingue differenti anche se dicono la stessa cosa anche se sono traduzioni stanno dicendo effettivamente la stessa cosa c'è un contesto socioculturale attorno che dona alle alle parole un contesto specifico un significato specifico come facciamo da i corpi corpi di documenti come fanno i linguaggi npl natural processing language a tenere conto di questi fattori una delle possibili risposte è più esempi di training quindi allenare sempre di più fino a catturare tutte le possibili in alcuni casi sfumature però il problema è un problema reale quello del fatto che non è così facile pensare di tradurre espressioni che magari sono idiomatiche o definite da aspetti socioculturali di un dato paese quindi questo problema è un problema difficile a trattare in alcuni casi e il terzo e in realtà si ricorda che scusate ora mi è venuta un'altra osservazione si ricorda che quello che ha detto simone quando noi guardiamo i sottotitoli dei video o guardiamo anche i video doppiati in realtà sono traduzioni che hanno un limite grande ovvero che devono stare nello spazio di tempo concesso e questo permette una traduzione un po come dire giocosa che con il limite di tempo anche spaziale di non fare cinque righe di testo si premette di cercare una traduzione semplice ed efficace nel doppiaggio anche per il parlato per il labiale nei video nei sottotitoli invece appunto per il testo e per lo spazio questo è un limite che di cui teniamo conto quando utilizziamo i documenti oppure no sì si prova a tenerne conto però per lo più si cerca di mettere le mani su quello che si può c'è c'è un uso abbastanza diciamo opportunistico dei dati per le traduzioni perché perché c'è una cosa difficile che serve per tradurre e cioè il fatto che le frasi ancora meglio sarebbe le parole devono essere allineate quindi per riassumere possiamo dire che la bibbia i testi giuridici e le i sottotitoli sono tutti delle traduzioni che hanno dei problemi hanno dei bias del constraint che abbiamo appena discusso ma sono quello che abbiamo e quindi bisogna usare quello tra l'altro abbiamo nominato nlp scusa giovanni spiegaci in due parole nlp natural language processing cioè prendere un computer dargli dei diciamo degli atti linguistici che possono essere scritti parlati mimati e insegnare a questo questa macchina questo algoritmo a capirci qualcosa senza che glielo diciamo noi passo passo quindi processare in modo automatico il linguaggio inteso in forma molto ampia quindi non solo parole scritte ma appunto anche parlato anche i gesti o le lingue insegnate una domanda giovanni vai e le tecniche che abbiamo oggi hanno il limite di avere il soggetto verbo oggetto oppure trascendono da questa costruzione grammaticale e l'altro problema come si comportano negli algoritmi che abbiamo oggi con le declinazioni le condizioni io sto provando a imparare il polacco per me è un casino immenso ma se gli diamo un testo lui non sa che c'è l'accusativo il genitivo come fa a imparare queste regole grammaticali allora di base oggi si tenta di mettere meno step possibili tra il testo e l'algoritmo e lasciare che l'algoritmo si impari le sue cose tra cui declinazioni coniugazioni morfologia di lingue complicate tipo il finlandese lungherese il polacco e ancora più sul turco eccetera l'altra cosa è che in qualche misura si gli algoritmi che si usano oggi per fare traduzione automatica imparano queste cose da soli se gli dai dati abbastanza e potenza abbastanza e in qualche misura imparano anche regole sintattiche semplici tipo che in inglese per esempio il soggetto sta davanti al verbo e quindi se se in una frase polacca il soggetto viene dopo ma è marcato da un suffisso l'inglese non si fa prendere la traduzione non si fa prendere in giro dal fatto che il soggetto in polacco viene dopo il verbo ma in inglese lo mette prima del verbo perché ha capito da dall'analisi del del morfema che che appunto quella parola è un soggetto in polacco e quindi in inglese deve venire prima del verbo se no diventa qualcos'altro quindi la nostra scusa no dicevo non le sa cioè non è che abbia non è che mappi la parola allo slot soggetto e poi mappi lo slot soggetto alla posizione della frase in inglese ma impara queste astrazioni da dall'input linguistico e poi riesce a creare una frase in inglese che suoni come l'inglese quindi ci sono ci sono due grossi problemi quando fai una traduzione automatica la frase tradotta deve voler dire la stessa cosa della frase originale e deve suonare bene nella lingua di arrivo perché tu puoi puoi tradurre le singole parole col dizionario no cioè tu hai la frase in polacco vai sul dizionario polacco inglese e trasformi ogni parola polacca con la corrispondente parola inglese e hai tradotto il significato però no non hai tradotto quella frase un inglese non la riconosce chi si ricorda chi è anziano si può ricordare a fine anni 90 bubble fish era se non sbaglio un servizio di yahoo che faceva questa cosa cioè non c'era 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 solo la machine non c'era il learning e quindi come traduzione andava a fare con la look up table a guardare il dizionario e tradurre le parole con il significato generalmente che cosa vuol dire look up table hai ragione facevo praticamente si prende una tabella di corrispondenze chiave valore in questo caso erano i dizionari per esempio nella tabella alla parola italiana ciao corrisponde in inglese hello certo che tu puoi dire altre cose anziché hello dipende dal contesto che magari magari in italia in italiano c'è una volta in cui dici ciao ma in inglese è meglio dire warning in base a quel contesto ci ho detto queste traduzioni erano ripilanti erano non funzionavano erano incomprensibili tipo delle ricette per cui per fare la pizza erano tradotte come gettare la pizza sulla pietra della pizza cioè non funzionava e ma è giovanni la quando dicevi che l'intelligenza artificiale non associa a una certa parola al concetto di soggetto quindi questi modelli sono interpretabili da un essere umano o sono più black box cioè funzionano tu hai la tua traduzione ma poi non puoi andare a sezionare il modello e capire il modo in cui ragiona puoi però è difficile e ci sono ore e ore di computing power che vanno dietro a questi modelli e al cercare di capire come fanno quello che fanno però appunto tempo fa si si tentava invece di andare per astrazioni successive quindi si prendevano sequenze di parole si traduceva tutta la sequenza poi si mettevano insieme le sequenze tradotte si trovava il modo in cui stavano insieme meglio oppure si passava per analisi sintattiche esplicite e quindi si prendeva una frase si diceva questo è il soggetto questo è il verbo questo è l'oggetto questa è la preposizione eccetera tant'è che si può tradurre anche così si può tradurre anche con delle grammatiche in cui hai una grammatica che mappa una regola la grammatica una frase in una lingua che mappa una regola e la stessa regola mappa alla frase in un'altra lingua quindi non traduci parola per parola ma traduci struttura per struttura questa cosa oggi non si fa più perché abbiamo degli algoritmi più potenti e che imparano le cose da soli fede quali sono gli algoritmi nuovi gli algoritmi nuovi sono le reti neurali che in particolar modo sono le reti neurali sequenziali o rnn recurrent neural network che permettono diciamo di guardare la frase capire diciamo qual è il contesto della frase e poi come hai detto tu attraverso livelli di astrazione di questa rete neurale si riesce a imparare come tradurre la frase sempre con un discreto quantitativo di esempi deep learning vuol dire questo vuol dire che c'è l'input e poi la rete neurale ha tanti livelli a cui processa questo input finché arriva all'output deep vuol dire questo vuol dire che ci sono tanti livelli uno sopra l'altro che astraggono 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 finché non trovano la ciccia quello che poi serve ma scusa l'inciso ci mancherebbe posso fare una domanda collegata per capire vai nelle le le reti neurali le deep learning networks che devono per esempio riconoscere gli animali hanno questi livelli di astrazione successiva su caratteristiche visuali quindi primi livelli di astrazione per capirci sono linea continuo linea retta linea curva e man mano che tu sali di livello di astrazione arrivi a occhio naso orecchia faccia coda questo però io ho difficoltà a tradurlo da un punto di vista linguistico cioè che che astrazioni ci sono se sono umanamente comprensibili nel nostro caso delle traduzioni ci sono in alcuni casi non è così facile bisogna dire che non è così facile vedere la stessa roba nel linguaggio però ci sono delle evidenze che diciamo che alcuni livelli della rete vada a catturare aspetti diversi di quello che linguaggio una ad esempio può essere la sintassi quindi c'è magari una parte che cattura più livelli di sintassi sintassi e più si astrae si arriva a livelli più di catturare la semantica quindi significato della frase è un pochino più difficile per quello che riguarda il linguaggio perché anche meno difficile da vedere occhio con le immagini puoi vedere vuoi vedere la i colori che cambiano su cosa la rete sta cercando di capire però c'è ci sono evidenze che anche questa cosa funzioni per il linguaggio per esempio si parte per esempio invece invece di dare delle parole intere come input si danno dei pezzi di parole e quindi poi si può per esempio imparare che una lingua come il polacco che diceva Livio prima che ha tantissimi suffissi mentre invece l'inglese ha tantissime preposizioni si può imparare che una determina un determinato suffisso in polacco è il dativo e quindi in inglese si traduce con tu do questa cosa a lui oppure non so in italiano si impara a tradurre a lui con il pronome inglese che funziona come come dativo come come ricevente quindi si cerca di spacchettare la lingua in modo che determinate corrispondenze diventino accessibili quello che quello che si guardava quello che si diceva prima no la cosa importante per allenare una macchina che traduca è dargli due esempi uno nella lingua a l'altro nella lingua b che sappiamo già vogliono dire la stessa cosa con tutti i problemi di contesto di cultura che ci sta dietro a una lingua una società un modo di pensare che che non sono ancora risolvibili però gli si dice guarda questa cosa vuol dire questa cosa in inglese vuol dire la stessa cosa di questa cosa in italiano se te ne faccio vedere tante piano piano impari le regolarità che si trovano in queste corrispondenze immaginatela un po diversa immaginati di essere un bambino che non sa nulla del mondo e deve imparare che cosa vuol dire una parola che oggetto identifica una parola quindi tu senti tua mamma che dice quella è una palla e nella scena davanti ai tuoi occhi vedi una palla vedi un trenino vedi una macchinina vedi una coperta il giorno dopo tua mamma ti dice guarda quella è una palla tu senti palla di nuovo e vedi davanti a te una palla però stavolta non c'è la macchinina non c'è il trenino c'è la coperta quindi mettendo insieme le cose dici ok allora palla non è il trenino non è la macchinina però potrebbe ancora essere sia la palla che la coperta giorno dopo ancora tua mamma ti ridice guarda quella è una palla la palla c'è ancora ma stavolta non c'è più neanche la coperta e quindi mettendo insieme queste cose fai la diciamo la connessione tra la parola palla e l'oggetto palla in una traduzione non è molto diverso perché in una frase leggi per esempio ball e nell'altra frase italiana ci sono una marea di parole tra cui palla frase dopo c'è di nuovo ball in inglese marea di parole in italiano c'è di nuovo palla ma tutte quelle che c'erano prima non ci sono più e quindi piano piano impari che per tradurre ball devi scrivere p a l l a ovviamente questa cosa si fa anche a livelli più astratti non solo parola per parola ma frasi piccole frasi pezzi di frasi pezzi di parola perché appunto se devi tradurre dall'inglese al polacco devi mettere insieme i suffissi quindi non ti basta mettere insieme le parole ma devi prendere livio una parola in polacco che conosci email dire tipo nome il mio accento di sicuro è sbagliato però se tu volessi dire per esempio del nome come diresti questa non lo sappiamo mettiamo in e aggiungi qualcosa alla fine non puoi mettere insieme due parole perché se dici solo email vuol dire nome ma non sta bene nel resto della frase non stai traducendo del nome ma stai solo traducendo nome però non capisco come fa una rete anorale un algoritmo a scendere sotto l'unità fondamentale che è quella della parola quando noi diamo l'input gli diamo parola per parola come fa a scendere carattere per carattere con una cosa che si chiama byte per encoding e ve ne parla fede ok questo è diciamo l'ultimo uno dei più recenti algoritmi di tokenizzazione che diciamo uno step che precede la fase di traduzione che permette di dividere le frasi in quelle che vengono chiamate scusatemi le parole in quelle che vi chiamato subword ovvero sotto parole quindi noi si divide le parole in componenti si generano tot componenti e una volta che si hanno le componenti si possono poi ricomporre per ricostruire delle parole quindi ad esempio bravo e brava possono essere scomposti in brav più a e o in italiano in questo modo si possono imparare a comporre delle parole senza dover memorizzare ogni singola parola e questo è il modo con cui imparare diciamo i modelli possono adattarsi al cambiamento di genere ad esempio che è uno dei task molto importanti nella traduzione perché è una cosa che tu vorresti mantenere quando traduci una frase è ad esempio il genere quindi sono dei modelli che usano questo tipo di tokenizzazione il byte per encoding è uno dei più recenti ovviamente però lo spezzare le parole in subword è uno dei modi con cui si fa questo tipo di lavoro se ci pensi è quello che ti insegnano anche alle elementari no che i verbi finiscono in aree e reire quindi ma li prendiamo da quello che conosciamo questo tipo c'è quello che stiamo dicendo quindi è che noi non diamo direttamente le frasi alla nostra macchina prima facciamo un pre processing e uno dei modi per fare questo pre processing è spezzettare le parole però in maniera sensata quindi non bra staccato vo ma brav staccato o perché è il genere questa conoscenza arriva a priori perché noi lo sappiamo in italiano quindi qualcuno si è messo a spezzettare le parole così o è proprio la macchina che se la può imparare c'è un algoritmo molto intelligente dietro che guarda che prende tutto il testo e capisce come qual è la soluzione buona per scomporlo in token poi ricomponibili diciamo quindi analizza fa questa composizione in qualche modo oppure ci sono delle regole per farlo e dopo che ha fatto questo processo tu puoi prendere del nuovo testo riapplicare lo stesso tool che è esatto per fare i token e riutilizzare questo ogni volta delle regole statistiche io vedo che c'è bravo bravo e bravo a un certo numero di volte ma vedi anche che c'è bravissimo sì 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 però per capirci vedo che c'è anche bravissimo quindi bravo è una cosa e poi o aissimo è un'altra tra virgolette particella elemento vedi incroci le cose vedi che c'è bravissimo e che c'è lentissimo giusto e che c'è rossissimo e quindi mettendo insieme i pezzi che ci sono alla fine i pezzi che ci sono all'inizio i pezzi che ci sono in mezzo riesci a capire quali sono quelli unici chiarese i mattoncini per fare un esempio più più forzato un modo più difficile per fare questo ma che si può comunque avere è invece una rete norale che guarda carattere per carattere è molto più difficile chiaramente che questo impari bene però in questo modo può comporre qualsiasi carattere con qualsiasi carattere diciamo che la sub quello dei sotto token è una generalizzazione un pochino più smart e qui si arriva su qualcosa di interessante tu dicevi no le traduzioni del di yahoo del fine anni 90 sembravano insalate di parole per citare marinetti così oltre alla bibbia abbiamo infilato anche il futurismo e invece e questi erano errori che i sistemi di traduzione automatica hanno fatto per tanto tempo magari le parole erano giuste ma non stavano insieme con le reti neurali sono cambiati anche gli errori perché magari la rete neurale produceva una parola nuova in italiano perché pensava che potesse avere senso mettendo insieme questi mattoncini più piccoli quindi era una parola che sembrava italiana ma se l'era inventata la rete neurale mentre quando andavi a guardare nel dizionario la parola non potevi generare una parola inesistente non potevi mai tradurre con una parola inesistente perché le tue ipotesi erano limitate dal dizionario quando hai scomposto le parole nei mattoncini e poi puoi ricomporre i mattoncini quando sei arrivato all'astrazione più astratta che la rete può avere poi da lì devi tornare nel concreto nell'altra lingua quindi hai vai dal concreto all'astratto e poi dall'astratto al concreto ma quando vai dall'astratto al concreto puoi generare qualcosa completamente inaspettato che sono sono errori nuovi e quindi in qualche misura il cambio di paradigma dall'andare a guardare la traduzione della parola a astrarre con le reti neurali profonde da pezzi di parole con una qualche valenza statistica nella lingua ha anche cambiato il modo in cui la rete neurale può sbagliare la traduzione è una cosa che io ho sempre trovato molto interessante una domanda sì sì e un'altra cosa che mi risulta difficile comprensione che di solito in machine learning le reti neurali te dai uno o più cose come input e ti tirano fuori un output quindi il modo in cui io interpretavo gli algoritmi di traduzione che te i davi tante parole e lei faceva parola per parola però se te mi dici che leggendo il dativo l'accusativo lui in output si va a creare due tre parole le ordine anche insieme alle altre è molto più complicato di così quindi come fa a ordinare gli output primo secondo terzo cioè come fa a interagire tra tra appunto processi paralleli alla fine no ci sono essenzialmente ci sono due modi in cui puoi farlo o generi tante frasi se pensiamo a prima quando dicevo che la traduzione deve fare due cose deve veicolare lo stesso contenuto e farlo in una forma accettabile per un parlante della lingua d'arrivo quindi tu puoi generare una serie di frasi che vogliono dire la stessa cosa e andare a guardare qual è quella che è più naturale quindi usi degli algoritmi che assegnano probabilità a frasi a seconda di quanto naturali sono le sequenze di parole nella frase quindi tu per esempio cominci dalla prima parola e poi guardi quanto probabile è la seconda parola data la prima e poi guardi quanto è probabile la terza data la seconda e la prima così fino all'ultima parola lo fai per tutte le frasi che hai generato ottieni una probabilità per frase e scegli la frase con la probabilità più alta perché è la frase in cui le parole che osservi sono più prevedibili date le parole di prima no quindi in realtà è un meccanismo ensemble che magari è una cosa che sarà l'argomento dei prossimi video insieme a simone c'è un algoritmo di predizione su un altro algoritmo di predizione il modello si chiama canale rumoroso traducendo letteralmente il noisy channel e tu essenzialmente scegli la frase tradotta che ti bilancia meglio il produrre lo veicolare lo stesso contenuto e il farlo nel modo più fluente possibile quindi scegli di tutti questi candidati che puoi generare scegli quello migliore secondo questi due criteri questo è il primo modo ed è il modo diciamo più vecchio stile poi c'è c'è il modo reti neurali e qui chiedo di nuovo all'esperto uno dei modi reti neurali è quindi passiamo a questi livelli di astrazione poi abbiamo una sempre parte ricorrente che diciamo produce i nostri token della frase uno alla volta e cerca di comporre una frase diciamo di senso compiuto quindi diciamo che questo è il metodo in cui la i modelli di si occupano di questa cosa e hanno ovviamente accesso a tutta la frase di input e all'informazione che arriva dalla frase di input e quindi la possono usare per generare la frase di output quindi sono dei modelli ricorrenti che hanno una parte ricorrente sotto una parte ricorrente sotto quindi qui hai la tua rappresentazione astratta della frase originale e da lì cominci a produrre la prima parola dopodiché hai prodotto la prima parola e invece di produrre tante frasi e poi dargli un valore tu cominci a generare dal token dopo che dopo generi il primo token sulla base della rappresentazione astratta poi hai rappresentazione astratta e primo token usi queste due informazioni per generare il secondo token poi di nuovo utilizzi secondo token rappresentazione astratta e primo token e sulla base di tutte queste informazioni generi il terzo tutte queste generazioni utilizzano le statistiche che la rete neurale ha imparato nell'input dall'input quindi dalla nostra bibbia dalle nostre tech talk dalle nostre leggi svizzere eccetera 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 poi chiaramente se hai la tua rete neurale allenata sulle leggi svizzere e gli dai da tradurre non lo so una rom com con Hugh Grant negli anni 90 non sarei molto curioso di vedere cosa viene fuori ma quindi questa ricorrenza è semplicemente il fatto che perché 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 definiamo ricorrenza perché si genera una parola alla volta e si decide quando finire e soprattutto si genera sulla base di quello che si è già generato ok quindi ci sono dei paralleli con per esempio le serie temporali nel senso che c'è questa parola chiaramente ha una grossa probabilità di venire tipo non lo so tipo il bambino faceva volare il suo è chiaro la frase cuore ovviamente no però ci sarebbe quindi è anche lo stesso algoritmo o simile un algoritmo simile a quello che troviamo nel nostro smartphone quando c'è l'autocompletamento delle frasi sì praticamente è una metà dell'algoritmo di traduzione è il modello dell'autocomplete però è la metà perché quello lì non certo non si occupa di veicolare lo stesso messaggio di un'altra frase sì perché l'autocomplete appunto non deve tradurre niente non parte da una base cerca semplicemente di completare la frase in base a quello che sa che tu hai scritto quindi dobbiamo immaginare un sistema di traduzione neurale quindi che usa deep learning come come una mela una metà è l'autocomplete e l'altra metà è una cosa che condiziona l'autocomplete a fargli produrre non quello che vuole eh no ma quello quello che c'era scritto nell'altra frase nella frase di partenza quindi invece di avere l'autocomplete che genera sulla base di un input nostro quindi noi scriviamo le prime due parole poi l'autocomplete va avanti l'autocomplete fa da solo ma non sulla base del nostro input sulla base della frase in francese e come ha fatto ha imparato le corrispondenti tra le parole nella frase in francese e le parole che esistono in italiano e come quelle parole si mettono insieme e quindi piano piano riesce a tradurre è un'ottima spiegazione io non avevo ben chiaro queste cose quindi vi ringrazio un casino per per la semplicità con cui avete veicolato il messaggio scomponendo le parti algoritmo senza tirare riuscendo a non tirare fuori complicate formole ovviamente si può approfondire arrivo io un attimo a gamba tesa perché c'è una cosa che mi ronza da mezz'ora e dico vabbè ne parleranno ne parleranno ne parleranno però non ne avete parlato e i sinonimi what about perché adesso mi hanno messo soltanto pessimi esempi di sinonimi da mettere su internet però insomma è un po' pericolosa la questione dei sinonimi non è assolutamente facile ma inoltre c'è un altro problema che parole in due lingue che hanno lo stesso significato potrebbero non avere gli stessi sinonimi delle due lingue diciamo quindi sì è un altro grosso problema che in tanti casi speri di poter risolvere con tanto testo che usi per allenare l'algoritmo in tanti altri casi è difficile bisogna utilizzare un po' di altre tecniche per supportare diciamo l'algoritmo di deep learning perché impari a gestire questi sinonimi in generale diciamo qualcosa nei sinonimi qualcosa della sinonimia è catturato da questa rappresentazione astratta che abbiamo detto che viene generata sulla base delle parole per cui frasi che usano parole simili ma non esatte non esattamente le stesse però simili genereranno rappresentazioni astratte simili quindi c'è questa diciamo obiettività tra le due rappresentazioni quindi se le parole sono simili di significato nella lingua di origine la rappresentazione astratta da cui poi il nostro autocomplete comincia a generare le parole saranno simili anche quelle per cui l'autocomplete genererà parole frasi simili nella lingua d'arrivo quindi diciamo a livello algoritmico la sinonimia è diciamo trattata in questa rappresentazione astratta poi ne parleremo perché è la grande rivoluzione dell'NLP degli ultimi dieci anni che ha reso possibili un sacco di cose nuove e mi dà il pane in qualche misura e anche a fede però ci sono sì ci sono delle parole che appunto sono sinonime in francese ma non lo sono in inglese ci sono l'altra cosa interessante è che la stessa parola può avere più significati quindi non c'è solo la sinonimia ma c'è anche la polisemia per esempio cassetta in italiano negli anni 90 era quella della frutta quella che ascoltavi e quella che guardavi però in inglese no si dicevano in modo diverso e quindi a volte devi mappare dalla stessa dalle stesse lettere in italiano a parole diverse in inglese o viceversa parole diverse in italiano si traducono con la stessa stringa in inglese queste cose qui in larga parte sì dammi più dati e ci saranno più esempi da cui posso imparare però a una certa quei dati devono anche contenere il segnale che ti interessa quindi non puoi semplicemente avere più dati a caso ma dovresti provare ad averli sensati è sparito abbiamo perso Giuseppe ma siamo sicuri che tornerà beh l'unica cosa che aiuta lì o comunque una delle principali cose che aiuta in quei casi di polisemia è il contesto cioè il significato di cassetta lo capisci solo guardando al contesto della frase è quello che poi gli algoritmi delle reti norali devono fare per riuscire a tradurre o a trovare la parola giusta per tradurre la parola cassetta cioè guardare il contesto della frase ti abbiamo perso è andata via la luce quindi sono dovuto correre fuori ad accendere motivo più valido non c'è ma rapidissimo tra l'altro eh sì sono corso ho tirato su e sono tornato qua comunque io tra poco vi devo salutare quindi vi lascio con questa chiudiamo qua come introduzione abbiamo spiegato tanti concetti cioè va bene dai va bene ok ci salutiamo dunque grazie a tutti alla prossima iscrivetevi e mettete like è vero era da dire all'inizio era da dire all'inizio mettete like e iscrivetevi siamo social ciao a tutti ciao grazie a tutti